Io sono arrivato qui nel 2017, qui in Italia. Io sono in regione di Calabria prima, io sono stato a campo. E loro mi hanno dato una mano, io ho trovato il primo soggiorno. Dopo loro mi hanno detto che non mi hanno potuto andare per lavorare. Io ho detto che va bene, grazie a voi. Io ho andato, un mio amico è di là, lui mi ha aiutato a un lavoro, io lavoro di là. E due anni ho lavorato di là. Dopo, il primo giorno è caduto, io ho andato per cambiare. E adesso, il primo giorno non è pronto, ma sempre io rimano a lavoro. Adesso è meglio. Bogolaro, io sono stato prima, ma Bogolaro adesso il comune ha aiutato noi a perturbare la bella casa. Adesso noi siamo tranquilli e sempre noi andate a lavoro, ritorna, è meglio. Adesso io non voglio fuori Italia mai. Voglio rimanere qui, lavoro qui, fatto mano qui a Italia. Perché loro mi aiutano, grazie a tanti italiani. Io sento tanti rassisti, io non conosco tanti rassisti. Tanta gente italiana mi aiutano, io non posso parlare niente a italiani. Mi piace l'Italia. Però loro mi aiutano ad arrivare qui a barca. Io non posso mentire questo mai. Grazie anche a lei, è bravissima. Sempre lei aiuta noi, mano, dai, mangiare, porta anche... Quando la casa è troppo caro, loro aiutano sempre. Grazie a me. Due anni io lavoro a Porini, sempre lavoro a Porini salata, anche zucchina, melone, tutto. Sempre lavoro è andato bene. Loro mi pagano giusto, non fai furbo, non fai niente. Anche il contratto è buono, da loro dato non busso paga, è normale.